ciao a tutti quale grande invenzione viene fatta nel neolitico la più grande invenzione dell'umanità è l'invenzione dell'agricoltura e dell'allevamento attraverso cui l'uomo riesce a cambiare il suo modo di vivere da nomade diventa sedentario perché un uomo doveva procurarsi il cibo se finiva le risorse alimentari perché finivano i frutti delle piante che l'uomo raccoglieva per cibarsi o la selvaggina scarseggiava doveva necessariamente spostarsi vi raccomando non perdete i prossimi video in cui affronteremo altre tematiche e relative alla storia ciao ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao